F1, GP d'Italia, Perez e Ocon all'unisono, abbiamo commesso degli errori, non accadranno più. . Nella conferenza stampa odierna, atto ufficiale di apertura del Gran Premio d'Italia, hanno ricoperto un ruolo importante le dichiarazioni dei due ragazzi terribili della force India, capaci di disturbarsi, per usare un eufemismo, a vicenda, vanificando quanto di buona quest'anno ha costruito il team anglo-indiano. . 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 Il compagno di squadra gli fa da eco, sono concentrato sulla forza India, abbiamo un team competitivo, possiamo fare punti ad ogni gara. Durante l'anno abbiamo superato il limite qualche volta e abbiamo commesso degli errori. . Andando un po' più nello specifico per quanto riguarda la gara di domenica, si è parlato di come sarà diverso affrontare il tempio della velocità con le vetture del 2017, che sviluppano una più elevata resistenza all'avanzamento e creano una scia più disturbata per chi segue. Su questo Ocon si è espresso come segue, la scia fa sempre comodo in rettilineo, ma sarebbe meglio fare il tempo senza. Nel Gran Premio d'Italia è difficile che non si parli di Ferrari. Tra l'altro entrambi i piloti della forza India sono passati da Maranello. . .